ciao ragazzi oggi andremo ad unboxare le airbots pro come l'ho pronunciato non lo so allora adesso apriamo sempre il solito apple in california e qua ci sono le airpods bene prima dopo quando c'è niente hanno questo questo è questo questo è la semplice perché non c'è del cavo questo cavo c'è la ricarica non so come si chiama e poi lo semplice senza più niente ma questi sono i gommini di ricambio adesso abbiamo loro ecco questa è la scatola che è un po più lunga invece che altro eccole qui le airpods max una lucina verde assurda non so perché eccole questo non cadere perfetto arancione perché erano perché buona ecco e dovremmo provare ora c'è se vuoi se accende airpods però queste qui ma sono connesse tipo ma c'è conosciuto subito airpods pro di ma c'è tipo una canzone a caso a caso proprio no no questo certo vado a cercare proprio cose si 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 questo qui ma raga si sentono bene si sentono bene raga eh si si sentono bene se e cosa c'è di diverso da queste a quelle vecchie e magari stai zitto brutto cosa e allora queste fanno il gommino che ho già detto e niente ragazzi spero che questo unboxing di queste airpods max se vi sia exos pro vi siano piaciuti mettete un like iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina e noi ci vediamo in un altro video ciao a tutti